Salve sono Monkey Simon e vi svelo un segreto, nel capitolo 3 è cambiata la mappa Esatto, non c'è sta più questa, basta con foschi o siepi d'acrifoglio Una nuova isola con nuovi biomi, nuovi luoghi e nuovi asset Ma ne abbiamo già ampiamente parlato sia nelle prime impressioni della stagione Che soprattutto nei migliori luoghi della mappa secondo me E in mezzo a tutte queste novità e al ritorno anche di pinnacoli pendenti Però si nascondono dei luoghi che nascondono a loro volta Un sacco di possibilità per poter iniziare bene una partita E soprattutto un sacco di loot Sottovalutati perché le persone nemmeno sanno della loro esistenza Non essendo luoghi segnati Ma soprattutto nemmeno ne conoscono il potenziale Perché magari le hanno visti da lontano Ma non ci sono mai andati per scoprire effettivamente che cosa c'è in quei posti della mappa E il primo luogo di cui vi voglio parlare è una miniera che si trova vicino a un oasi Nei pressi dell'MPC di Haven Sta miniera non è un luogo gigantesco e non è sicuramente un luogo adatto alle squadre per quanto è piccolo Ma intanto in singolo, massimo in coppie Fornisce un buon loot e anche delle cure con i barili della slurp Certo questa miniera non è proprio vicinissima a tutti quanti i punti di interesse Però diciamo che è molto consigliata a tutte quelle persone che come detto prima Vogliono iniziare le partite senza dover per forza andare contro mille persone E quindi doversi arrangiare con le prime cose che si trovano E per chi vuole avere un inizio game relativamente safe In più questo luogo lo sto valorizzando ancora più di prima Soprattutto da quando si è sciolta la neve Perché anche soltanto a livello visivo ci sta guadagnando un bot È proprio bello, è proprio bello il deserto di questa mappa Ma se proprio volete una miniera che contenga molte più persone Ci sta quella dei Condotti Confusi Che è proprio un ampliamento del luogo storico del capitolo 1 Se mi conoscete saprete che a me Condotti Confusi non è che mi abbia mai fatto impazzire Perché è un luogo labirintico in cui si muore molto facilmente Ma nel capitolo 3 Condotti Confusi ha subito questo ampliamento Perché di fianco all'interno della montagna C'è una miniera in verticale Che è una vera e propria miniera d'oro per quanto riguarda il loot E contiene le squadre perché c'è il loot sufficiente per poter rifornire una squadra Però Monkey Sammon questo non è un luogo sottovalutato Perché è un ampliamento di Condotti Confusi E Condotti Confusi è un luogo storico del capitolo 1 Che è persino segnato sulla mappa e ci va un sacco di gente Non nel suo ampliamento infatti Perché quello viene calcolato solo molto dopo Diciamo nelle fasi finali di una partita Se proprio il cerchio si chiude in quelle zone E quasi mai ce va qualcuno durante l'atterraggio Vanno tutti quanti a Condotti Confusi Sia perché oggi sia perché è Condotti Confusi Ed evidentemente piace E luoghi come questo nella mappa precedente mancavano come il pane Perché molti spazi non erano sfruttati a dovere Tipo Castello Corallo che occupava una marea di porzioni di mappa Ma era completamente vuoto Soprattutto dopo la stagione 7 del capitolo 2 Mentre questo intanto Sfrutta una piccola parte di mappa E per lo più lo fa in verticale Quindi ci si può addirittura aggiungere altro intorno più tardi Nelle future season E dentro c'è il mondo Perché appunto c'è talmente tanto loot Da rifornire una squadra In un luogo che sembra apparentemente così piccolo Ma in realtà è gigantesco Poi i fight al suo interno Soprattutto quando c'è sta la tempesta che sta arrivando Sono troppo divertenti Perché è come se se stessero a stringere le pareti E Petro va all'uscita E' un casino poi Con tutte quante le costruzioni che si aggiungono dopo Non te dico Nonostante gli ingressi E quindi di conseguenza le uscite Siano 3 E questo castello corallo Non ce l'ha E iscrivetevi Lì di fianco invece C'è un luogo che potremmo definire sottovalutato Ma che fortunatamente Sempre più persone Non stanno sottovalutando più E cioè la villa Sto luogo mi è sempre piaciuto Sin dai primissimi giorni Appena l'ho scoperto Ho cercato di andarci il più possibile E lo adoro Sia per estetica Sia per quello che ci ha da offrire A livello tecnico A livello puramente di gameplay Intanto si trova vicino A tre punti di interesse Cioè stretto Condotti E deposito Quindi non si può di che è isolato dal mondo Ma in più è anche bello da vedere E all'interno di questa villa Che può essere addirittura visitata da squadre Ma io ve lo sconsiglio Massimo in tre Secondo me C'è pure un sacco di loot Dove tenere presente che sia Anche se ci fosse del loot Per rifornire una squadra C'è sempre Anzi c'è molta probabilità Che ci sia La solita fortuna Di trovare solo cecchini Non so perché in sta season Trovi solo cecchini Soprattutto a inizio game Però succede E più volte mi è successo Che atterrando qui a squadra Mi sono ritrovato Sì con del loot Ma era scarso E soprattutto scrauso Quindi meno siete E meglio è Qui tu mi direi Grazie al cazzo È ovvio che meno siamo Più loot c'è sta per me Ok ma questa non è pinnacoli Quindi occhio a quanti atterrate In una casetta piccola E ok questa non sarà sicuramente Una casetta piccola Però comunque sia Il loot è limitato A seconda di quanti giocatori ci sono Quando però si è In un numero adeguato Di giocatori Questa villa C'ha il potenziale Di rifornire Una squadra De tre persone massimo Secondo me E sempre più persone Si stanno accorgendo Che questo è un luogo valido Quindi forse tra un po' Non sarà più tanto sottovalutato Perché lo stanno sfruttando Per lootare E poi lo può andare Nelle zone circostanti E un bel po' di partite L'abbiamo cominciata qui E poi l'abbiamo addirittura vinte Perché l'abbiamo cominciata bene Per fortuna Quindi Non sottovalutate la villa Se non ci avete mai fatto caso Se ci siete andati Veramente poche volte Perché Di fianco ci stanno Dei luoghi fantastici Tipo stretto sonno lento Deposito Esteticamente poi Questa abitazione Mi affascina un sacco Forse perché saranno I nuovi asset Che non la rendono La solita villa Con gli asset Del capitolo 1 Che avremmo potuto vedere Tranquillamente Anche nella mappa Del capitolo 2 Diciamo che c'ha Una sua identità Che è una cosa Che mancava a molti luoghi Proprio della scorsa mappa Ritornando nel deserto E rimanendo sempre In tema di case No? Perché Monkey Simon Passione architettura C'è una casa Che somiglia molto A una villa Che si trovava proprio Nella mappa del capitolo 2 Che è quella dove c'estava L'NPC Terme Editore Se vi ricordate Questo edificio però È molto particolare E vi assicuro Che non se lo sta Mai cagando nessuno Si trova vicino Circuito Chonker Quindi appena avete finito Di lutare Avete già un luogo Di interesse Molto vicino E il fatto che Nessuno ce va Lo rende proprio Un luogo sicuro E quindi safe Ma non per forza Isolato e sperduto A tal punto Che prima di raggiungere Un luogo abitato Te devi fare i chilometri A piedi Oh mio dio Poverò tutti quanti Atterravano a sepire Grifoglio In più C'è del loot garantito E 50 di scudo Perché nei sotterranei Chest E dei barilli di slurp Che ti forniscono Già 50 di scudo Quindi basta Trova due scudini E hai fatto Sei fullato E in più è pure Un bel luogo Perché è situato Proprio in un bel punto Della mappa Il deserto è veramente Bello come ho detto prima E fidatevi che La bellezza di un luogo Può influire Sull'umore del giocatore Perché se un luogo È brutto e angosciante Non lo so A me sale un senso De noia E immagino che questa cosa Non la provo solo io La proveranno anche Tante altre persone Anzi non ci credo Che so solo io A pensare una cosa del genere Perché altrimenti Non ci si soffermerebbe Così tanto sulla Grafica Di altri videogiochi Quando escono E quando si vedono i trailer O peggio Quando li si deve giudicare Nella loro totalità Infine voglio concludere Con un luogo Che valorizza tantissimo Il bioma dei Jones Cioè la giungla Lo stesso dei Fortezza Furtiva Che ancora non è stato Sfruttato a dovere Ma ci sono dei piccoli luoghi Che lo rendono infatti Un bioma valido Tipo questa spiaggia qui Che abbiamo visitato Io e Pazzox Durante la prima partita Del capitolo 3 Che sembra un luogo sperduto E dove apparentemente Non c'è niente Ma intanto ci sono Cure garantite Perché ci sono i mini frigo Quelli che ti danno Il crodino e le splash Sì regà Quello è il crodino Tra le altre cose Crodino Se vuoi fare una collaborazione Ciamame In più qui non si vedono Nel replay Ma ci stanno addirittura Le casse sotterrate sotto la sabbia Quindi non ci sono soltanto Le casse presenti In queste due casette E per una Massimo due persone È un luogo perfetto Già con 3 Non ci potete trovare Tutto quanto A tal punto da rifornir Poco ma sicuro Può tornare utile Se volete atterrare Ai Jones In singole coppie Ma non ve la volete Rischiare troppo Perché sì È un fantastico luogo Ma si può morire Molto facilmente Perché a parte le case Non è che ci stanno Tanti ripari E non si possono Fare subito Tanti materiali Quindi magari andare Un po' più con calma Atterrando a sta spiaggetta E proprio spostandosi Ai Jones Facendo fuori Gli ultimi rimasti È un'ottima tattica Ma ora Cari monkeys monkeys Qua sotto nei commenti Voglio sapere la vostra Conoscevate questi luoghi E soprattutto Conoscevate il loro potenziale Oppure Ne eravate totalmente All'oscuro E vi buttate sempre Nei soliti luoghi Soprattutto quelli segnati Sulla mappa Non giudico eh Però sapete che Ve leggo molto volentieri Vi ringrazio Per tutto quanto L'immense e infinito Costante supporto Che date ogni giorno Al canale Sapete che apprezzo tantissimo E fatti Dovuti i meritatissimi Ringraziamenti Non posso Che darevi appuntamento Direttamente Ad un prossimo video A Castello Corallo Ci stanno almeno Trenta cest Ma che cosa dici Monkeysimon Andiamo tutti l'addio Vabbè Ma sei scimno? Non era significata sta roba Non importa Sei scimno lo stesso Oddio santo Quanti 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 Quanti